Quando si parla di cambiamenti climatici, in Vaticano non si capisce più niente, nel senso che l'agenda climatica è diventata un principio non negoziabile, unico e assoluto, che cancella qualsiasi altra considerazione. E infatti, a metà maggio, al nuovo summit in Vaticano sui cambiamenti climatici, tra i relatori ci sarà anche il governatore della California, Gavin Newsom, il quale Newsom non solo ha portato la California, grazie anche alle sue politiche ecologiste, a sfiorare la bancarotta, ma è anche un cattolico alla Biden, cioè un attivista pro-aborto che sta invitando ad abortire in California le donne che trovano limiti in altri stati americani e che dal 2022 ha trasformato il suo stato in una sorta di zona franca per consentire operazioni di cambio di sesso sui bambini. Ma si sa, siccome è un ecologista radicale, in Vaticano tutto il resto non conta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.